Salve a tutti e bentornati. Quest'oggi ho il piacere di ospitare nel canale Matteo Acciaresi che è stato allievo di Agamben ed è autore di un testo che io trovo davvero importante in un momento come questo che è il libro dal titolo Filosofia della pandemia che reca il sottotitolo Tracce per un pensiero della contemporaneità. Il testo è davvero notevole e mostra anche la qualità non soltanto la qualità intellettuale ma anche la qualità del discorso che emerge nel pensiero quando si pensa. E per questo ho voluto avere il piacere di invitare Matteo e lo ringrazio per aver accolto l'invito. Il tuo testo che io ho letto con immenso piacere, devo dire anche perché si legge rapidamente, forse si legge rapidamente per me perché i temi sono molto interessanti e magari è proprio un argomento di cui mi sono anche occupato, ma è interessante vedere e qui parlo personalmente questa razionalità, è una cosa che diciamo da tempo, quando la razionalità rimane scevra da tutte quelle influenze, da tutti quei discorsi che provengono dal meccanismo dell'industria culturale, della manipolazione, di tutto quello che abbiamo purtroppo visto e continuiamo a vedere in particolare a partire dal 2020, sia possibile fare un discorso che invece si eleva su tutto questo e questo è anche il compito della filosofia come tu hai ben evidenziato chiamando il titolo proprio filosofia della pandemia. Io magari poi ti farò alcune domande, però ti inviterei magari a introdurre un po' per noi, per gli ascoltatori del canale, le motivazioni che ti hanno portato a scrivere questo testo e non lo so, altri dettagli che vorrei aggiungere. Te la parola. Allora intanto buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti e permettimi di ringraziarti di nuovo Sergio per l'invito. Dunque il testo che ti ringrazio anche per aver definito una lettura fast, scorrevole, eccetera, in realtà, come dire, riconosco poi anche avendolo riletto proprio in vista di quest'invito che è un testo abbastanza impegnativo, non fosse altro che per la complessità di temi che ci sono dentro. Il testo è stato terminato tra novembre e dicembre 2020, quindi certamente diciamo il passepartout per questo testo, per la stesura di questo testo, è stata l'acuirsi diciamo della situazione pandemica sanitaria, ecco per ora rimaniamo sul lato sanitario, che mi ha fatto sentire come in dovere, in quanto pensatore, di dovermi esprimere su questo discorso che però in realtà appunto è un discorso che involve in fondo il tema del compito della filosofia, no? Perché una pandemia, come cerco di spiegare diciamo nel testo, Pan e Demos non è una questione che si può definire meramente... Matteo si è bloccata la... Ci sono... mi sono interrotto? Ti sei interrotto, scusa. Mi dispiace. C'è stato un intervallo. Dicevo, il termine Pan e Demos è naturalmente un termine che va oltre, no? La constatazione della quantità, ecco, del ragionamento sanitario, dei contagi, eccetera. Allora il genitivo, filosofia della pandemia, è un genitivo a cui, come spiego in prefazione, bisogna un attimino stare attenti, nel senso che da un lato è una filosofia, cioè un atto di pensiero che in 75 pagine riflette sulla pandemia, quindi un genitivo oggettivo. Dall'altro, tuttavia, è parimenti importante riflettere sul fatto che è un genitivo soggettivo, perché c'è anche una pandemia della filosofia, cioè c'è anche una situazione in cui, dal punto di vista del Pan e del Demos, cioè tutta la sfera della polis, in qualche modo, è chiamata a riflettere su quello che può o non può più una filosofia oggi. Naturalmente, poi forse ci arriveremo qui, lo accenno solo, bisogna riflettere, e cerco di farlo nel testo, su quello che è il rapporto tra filosofia, per come è intesa, diciamo, dal punto di vista dello schematismo accademico oggi, e filosofia in quanto a ciò che forse la filosofia deve autenticamente fare, no? Cioè, cos'è, chi è il filosofo? In fondo il tema di fondo anche del testo è questo, no? Cioè, in una situazione pandemica, il filosofo, chi è, chi può essere, non solo, chi è stato sino ad oggi, no? È curioso, e qui mi fermo e ti ridò la parola, è curioso che non appena si, anche solo proprio si provi a tracciare una storia del rapporto tra filosofia e istituzione, anche andando al di là dell'istituzione accademico-universitaria, proprio istituzione, non appena si provi a fare questo tentativo, si è sommersi, no? Dalla quantità di grandi pensatori, direi tutti, che provano una strana e curiosa insoddisfazione nei confronti dell'istituzione, è vero? Cioè, c'è sempre da Socrate a Spinoza, a persino Tommaso, Heidegger, Husser, c'è sempre un certo qual attrito tra l'esercizio del pensiero e il meccanismo dell'istituzione, no? Quindi il testo prende a tema anche questo discorso, nonostante una storia del rapporto tra filosofia e istituzione che sarebbe molto interessante e molto attuale, resti ancora da scrivere, forse mi proporrò in un futuro prossimo di Abbozzarlo. Beh, certo, il tuo tema, ovviamente tu hai qui aperto moltissimo l'orizzonte, che sai, potremmo metterci il classico testo dei Parerga, un paralipomena di Schopenhauer, filosofia contro Accademia, fino ad arrivare a moderni autori americani, ad esempio, sul declino della mentalità americana dovuto al sistema accademico. Il problema, anche la domanda fondamentale è qual è il rapporto tra pensiero e Accademia, soprattutto nel periodo post-68, quando, come tu ad esempio hai aperto il testo con una giustissima citazione di Illich, e Illich si pone questo tema fondamentale in descolarizzare la società. Il problema è che in questo momento forse la pandemenza rivela proprio questa crasi tra un pensare dell'ufficialità, che poi sostanzialmente un non pensare, quello quando tu riferisci questa avversione di grandissimi pensatori alla alla filosofia d'accademia, forse è un'avversione dovuta al fatto che nell'istituzione non è possibile fare filosofia, e lo abbiamo visto per tanti versi. Vedi, quando adesso tu, essendo allievo di Agamben, e dicevamo prima, nel momento in cui Agamben fuoriesce con una potenza di pensiero notevole, e si dichiara contro, e evidenzia alcune delle contraddizioni, dei problemi relativi alla pandemenza, cosa succede dall'altra parte? Vi arriva una contraerea di nullità, che non hanno più l'orizzonte della storia, perché il tema qui, uno dei punti che tu ad esempio evidenzi nel libro, io proprio vorrei partire anche da una delle frasi importanti, quando tu, credo a pagina 11, io qui ho il testo, devo seguirlo perché altrimenti non riesco a... Dici, scrivi che non c'è un punto argomentativo reale da parte di chi taccia, di chi etichetta automaticamente. Ed è esattamente quello che è successo ad Agamben, e non è successo soltanto in quella che io chiamo la gazzetteria, questo apparato di poche centinaia di persone stipendiate che determinano l'opinione di milioni di persone, opinione proprio intenzionalmente in senso platonico, di doxa, ma è anche un tema, un problema in cui le università si sono rivoltate, io so di alcuni, alcuni li ho anche criticati, li ho analizzati più che criticare, perché sai, una cosa è la critica fatta così alla bella, una cosa è l'analisi, persone che vengono fuori con paroloni, con grandi discorsi, e manca da parte del pubblico la capacità di capire che nel momento in cui tu vuoi argomentare contro Agamben, non è che non si possa fare, per carità, anzi è proprio l'attività della filosofia, non puoi argomentare con platitudini, con luoghi comuni, con attacchi a dominem, che è poi sempre la stessa struttura, per questo mi è piaciuto tantissimo questo tuo passaggio quando dici non c'è un punto argomentativo reale, ma tu lo vedi perché? Perché tu lo vedi che non c'è il punto argomentativo reale? E' proprio in virtù della tua formazione filosofica, non credi? Certo, allora intanto assolutamente una piccola parentesi, io peraltro sono stato e sono un critico di Agamben, in particolar modo dell'ultimo Agamben, ma vedi Sergio, qui come accennavi tu, il discorso non è di criticare, perché noi dobbiamo in quanto pensatori criticare, ma ci mancherebbe altro, questa è la nostra chiamata, no? E d'altronde crino, il verbo crino non vuol dire nulla di negativo, anzi forse solo di positivo, il problema è che non si esercita più, si esercitano colpi di freccette da gazzetteria, no? Per usare il tuo termine, ma che non conducono a nulla, no? Per esempio, infatti, Gijek, che è un altro esponente, diciamo, della filosofia pop contemporanea, non si è azzardato minimamente a fare un articolo del giornale contro Agamben. Cioè, Gijek ha scritto un testo molto interessante, secondo me, anche editorialmente, nel senso che è stato il primo testo filosofico in Fieri, no? Cioè, Virus, il sottotitolo non me lo ricordo, si chiama Virus, dove lui, a partire dall'inizio della pandemia, ha un po', diciamo, continuato a scrivere e mano a mano veniva edito con le nuove parti, questo testo. Ora, è un testo di levatura teoretica molto bassa, non è un testo di chissà che, però voglio dire, c'è comunque un esercizio della critica di levatura tale che non va a riversarsi sui giornali per dire tu sei il complottista, ci sono diversi passaggi nel mio testo, no? Dove io, in qualche modo, senza scomodare Spinoza, però faccio un po' un emendazio, no? Dei temi, perché complottismo, no vax, queste robe qui. Allora, bisogna un po' emendarci, no? Per poter criticare. Allora, Gijek non è uno che si è messo a fare articoli del genere, perché sa benissimo che nell'esercizio della filosofia non basta un articolo senza argomentazione per potersi scagliare contro qualcuno. Se ti vuoi veramente scagliare contro qualcuno bisogna argomentare e criticare e questo comporta una certa responsabilità e un certo esercizio di pensiero critico, appunto. Ma volevo anche dire, e forse ampliando un po' il discorso, che quello che tu dici circa la vacuità delle argomentazioni è molto sintomatico, è molto sintomatico della situazione delle università attuali, perché le università attuali, consentimi una certa quali incisività, sono dei, delle fantasmagorie, peggio, sono dei cadaveri. Cioè, se adesso oggi si entra in un'università, parliamo di quello che diciamo ci è più vicino, in un dipartimento di filosofia, per dire, o di sociologia, insomma, storia, eccetera. Ma guarda, io ti assicuro che si avverte un'area, come tu dicevi, senza storia, no? Cioè, i luoghi che dovrebbero essere depositari, non solo della storia, ma della storia in quanto memoria e quindi della storia in quanto futuro, perché non c'è storia senza futuro, no? O prospettiva di futuro. Cioè, ci sono luoghi dove il tempo sembra congelato. E non parlo della normale di Pisa, dove ci sono, non so se tu ci sei mai entrato, ci sono queste moquette, questi arazzi, queste cose che io ci sono entrato una volta, mi è sembrato di entrare, non lo so, in una, in un set cinematografico fatto anche male, peraltro. Già il palazzo, no? Ecco, il palazzo, tutto questo silenzio tombale, no? Cioè, ma voglio dire, ma ricordiamoci di Socrate, no? Ricordiamoci di Socrate. Non è che ci serve il silenzio tombale o gli arazzi o la polvere dei libri che, insomma, che rimane polvere e che non si traduce in esposizione, no? Perché il filosofo è, per definizione, colui che deve essere esposto, no? Si deve esporre. Allora, qui io nel testo cito Agamben, quando dico a proposito del discorso normativo giuridico, no? Dove noi, e non solo noi come Paese Italia, siamo ricorsi allo strumento del decreto presidenziale del DPCM, no? Per, diciamo, coadiuvare questo stato d'eccezione e tentare di controllare un po' le masse. Allora, lì, Agamben, per esempio, che io cito, dice, richiama un'affermazione che io non ricordo in questo momento di chi sia, che è quare silete iuriste in munere vestro, no? Cioè, perché, cari giuristi, adesso voi state zitti nel momento in cui, come dire, proclamiamo uno stato di eccezione, uno stato di emergenza e andiamo avanti a forza di DPCM che non si è mai vista dalla fondazione dell'Unità d'Italia, una roba del genere. Allora, quale silete iuriste? Ma io direi, quale silete filosofi, no? Filosofi in italiano. Perché state zitti? Professoroni di etica, professoroni di bioetica, professoroni di teoretica. Perché state zitti? E continuate a ricevere, peraltro, lo stipendio dopo che non lavorate, non avete lavorato, nel senso che adesso penso abbiano ripreso, ma dopo che non avete neanche lavorato per tanto tempo, no? Adesso non me ne vogliano gli ascoltatori, diciamo, come dire, un po' più diplomatici. Io ho una storia e un'esperienza per cui mi sento di parlare con cognizione di causa, no? Qui non è uno schierarsi contro qualcuno o qualcosa a priori. Sto cercando di sintetizzare un po' quelle che sono le argomentazioni abbastanza anche farraginose del mio testo, dove io analizzo le motivazioni per cui si è arrivati a questo. È chiaro che, non lo so, uno Giannantoni o un Maierou o grandi esponenti della generazione passata, delle cattedre di filosofia passate, diciamo, per loro il discorso è diverso, no? Io mi riferisco a una specifica contingenza attuale della situazione accademica. Sì, però, vedi, non credi che questa situazione stia in realtà, mentre le masse indossano le maschere, le istituzioni, oppure la presunta intelligenza la butta giù la maschera, un po' come nel coro nella commedia antica. C'è questo momento in cui tu dici, giustamente, dove sono, perché non intervengono, ma non intervengono perché non sono filosofi, non intervengono perché non sono davvero pensatori e perché lavorano in dei diplomifici in cui tutto è questione di burocrazia, di timbri, di vidimazioni. Tu conosci bene l'accademia, l'università dall'interno e sai benissimo che è un mondo in cui lo squallore regna. Ah, tu hai la specializzazione, c'è il concorso, c'ho questo punto in più. A me una volta mi venne un tizio e mi disse a che cosa stai lavorando? Gli ho detto a questo. Ah, io sto lavorando a questo. Che fa? Io se tu mi metti il mio nome nel tuo paper, io metto il nome nel mio paper. E gli ho detto ma hai intenzione di collaborare insieme? E mi dice no, no, però così abbiamo due paper al prezzo di uno, gli ho risposto. Perché questa, che poi è tutto determinato sempre dallo Stato, dagli intenti ministeriali. E come dici anche tu, cioè è vero questo essere luoghi morti perché non si comprende più innanzitutto la responsabilità etica ma anche il fatto di essere depositari di un discorso. Poi quando tu dici filosofia, questa è un'altra cosa che a me colpisce moltissimo, e quando uno dice filosofia dice politica. Non si può scindere la filosofia. Ci sono nelle scuole, si fanno queste cose stucchevoli, terrificanti, da manuale. Proprio il manuale è un'impostazione ministeriale in cui si racconta l'amore della sapienza. Sì, non c'entra niente. Tu non puoi fare un'etimologia senza vedere il contesto in cui questa etimologia sorge. La filosofia è figlia della democrazia. Dunque è figlia di una... Per questo Platone scrive dialoghi e non fa come i pensatori precedenti che fanno queste sentenze i quali già sanno. La filosofia è partendo dal non sapere e dialettica. Questo noi l'abbiamo proprio... Non è che lo abbiamo dimenticato, lo abbiamo falsato. E allora è chiaro quello che tu dici. Manca allora il compito. Perché se tu hai queste impostazioni... Ma guarda, ma io sono bravo e c'ho il timbro di qua, c'ho il timbro di là, c'ho il certificato di là. E poi uno ti chiede... Ma questo certificato è soltanto una lettera morta? Ti ricordi Platone nella settima lettera? Importantissimo quando dice... Perché lui si sforza di nuovo di andare a Siracusa? Dove aveva già avuto un paio di brutte esperienze. Dice... Ma perché io non voglio essere lettera morta? Non voglio essere uno che fa solo parole? Lui dice... Non fare solo... Non essere solo parola, ecco. Guarda, permettimi di essere ancora più radicale, di dire che questo... Cioè, diciamo, è stata la filosofia... Quello che rimaneva della filosofia stessa a uccidere questo. Non è che loro non siano più professori... Scusami, non siano più filosofi perché abbiano qualcosa da offrire. Mi riferisco ai professori per poi andare anche adesso oltre. Perché il problema, come io dico, è che non è che... Allora, tu dici, va bene, non siete filosofi, non siete politica, no? Cioè, non vi esponete. Allora, quando uno va a fare filosofia all'università, fa una cosa, una collezione, avidimazioni, timbri, eccetera, non è che poi c'è qualcosa... Cioè, non è che questo poi comunque si traduce più in qualcosa. Cioè, fino a metà del secolo scorso, per dire, ma anche oltre, c'era o comunque... La filosofia era già morta nelle aule accademiche, ma c'era comunque una cosa per dire, vabbè, allora io faccio sta cosa, almeno poi insegno, no? Cioè, per dire, c'era una traduzione, per quanto abberrante, ma una traduzione comunque in un frutto di vita quotidiana, no? Che è il sostentamento professionale, quello che vuoi, che comunque quelle aule potevano offrirti. Ma adesso io dico che sono morte, anzi peggio, che sono ologrammi, cioè che sono cadaveri ambulanti, perché non hanno neanche più quello da offrire. O blindate. Nonché blindate, ma blindate però, attenzione, blindate con l'apparenza di non esserlo, perché tutti possono entrare, no? Vabbè, però si vede. Quando tu apri un elenco dei docenti in Italia, in qualunque università, e cominci a vedere cognomi che si assomigliano, non è che si assomigliano per un caso, si assomigliano per relazioni parentarie. Caro Sergio, mi incausa la grande abitudine italiana al baronismo e al nepotismo. ne parlerai molto volentieri, però questo forse ci porterebbe un po' troppo nella cosa. Insomma, sintetizziamo, dicendo che è manifesto a tutti che i concorsi sono compravendite. Esatto. Te lo dice uno, ve lo dice uno, perché stiamo parlando anche ai nostri ascoltatori, che ha provato cinque anni a chiedere borse di ricerca e che però, diciamo, come dire, non è stato mai molto gradito alle istituzioni accademiche. I concorsi sono compravendite, le cattedre sono, vogliamo dire, favori, vogliamo dire, insomma, passaggio di nomi, trasferimento di tipo, insomma, la situazione com'è la sappiamo. Consentimi invece di parlare di una cosa molto importante che tu accennavi, cioè il discorso di filosofia e politica. Allora, io ho intitolato un capitolo, diciamo, del testo Filosofia è politica. Questa è un'affermazione grave, nel senso che è un'affermazione che richiede una disamina approfondita, che certamente non possiamo fare qui, però, allora, diciamo che non esiste Filosofos senza esposizione nella polis, no? Che non vuol dire andare in giro a strillare, a urlare, a fare rumore, non è sovversione, quella è un'altra cosa. Vuol dire che, diciamo, il filosofo deve essere pronto a denudarsi dalle proprie maschere, no? Deve essere pronto a, o comunque a indossarla in pubblico, ecco, non so come dire, a essere pubblico. Noi siamo figli di una mentalità liberalistica, per cui il confine tra privato, pubblico, stato di diritto, eccetera, ci sembra un po' una condicio sine qua non della vita. In realtà non è così. Tu citavi la polis di Atene, suppongo, no? Quando parlavi di Platone. Ecco, lì non è che funzionava pubblico-privato, ciò che è pubblico non è privato e viceversa. Forse ora, dopo, insomma, in una situazione ancora più pandemica o pandemenziale, come vogliamo chiamarla, di finalmente ripensare questo discorso? Cioè, pubblico e privato non sono per il filosofo una dicotomia, sono una diade, un endiadi. Allora, il privato del filosofo è il suo pubblico e viceversa, chiaro? Perché se no, ovviamente per quanto concerne i temi su cui riflette, poi dove vive o come va in bagno, come li so fare i suoi. Ma per quanto riguarda certi temi, è chiaro che c'è una stretta correlazione tra pubblico e privato. Non si può più pensare... No, no, certo, ma anche perché questa correlazione tra pubblico e privato è anche un fatto moderno. Se tu vai a Pompei ci sono questi bagni, ad esempio, dove vanno tutti in bagno insieme. non soltanto. I romani avevano uno schiavo, che siccome le lastre erano di marmo ed erano fredde, che si andava a sedere il padrone per riscaldare il marmo. E poi il concetto di... Vedi, anche qui tu accenni, entri in un discorso che è chiaramente attinente nella dimensione della democrazia. Cioè la democrazia dell'antico è partecipativa nella maniera assoluta. Lo so che appunto appena si entra però nelle aule accademiche la prima cosa che viene insegnata è che avevano gli schiavi e le donne non partecipavano. E vabbè, io direi dalle mie parti si direbbe figli del Signore. Sì, va bene. Però se tu capisci che l'esempio greco, l'esempio delle democrazie greche, perché anche qui si parla sempre di una democrazia, invece le democrazie greche erano tante diverse, e se tu lo compari agli altri sistemi politici, vedi quanto siano avanti invece. Invece tu vai a vedere le pulci invece di andare a vedere il contesto. Poi cosa fai? Ti approprii di questo termine, perché noi ci siamo appropriati di questo termine democrazia e ci abbiamo messo tutti delle altre cosine accanto. Però, e questo permettimi di citare qui un grande filosofo italiano non riconosciuto come tale, che era Massimo Troisi, il quale diceva che quando lui andava a cercare lavoro a Napoli, gli dicevano sempre sì, qui c'è lavoro però è minorile, qui c'è lavoro però è nero, qui c'è lavoro però è tutte queste cose. Allora alla fine della battuta lui dice ma lavoro e basta a Napoli non se ne trova. E la stessa cosa abbiamo fatto noi con la democrazia, democrazia rappresentativa, elettiva, costituzionale, questo e l'altro, ma democrazia e basta noi non ce l'abbiamo, non conosciamo, non ci poniamo più il concetto, anzi c'è sempre il furbone che viene e ti dice sì ma non è possibile in una società così grande come le nostre. Una società tra l'altro che conosce mezzi come l'internet e quest'altro. Il fatto è che noi dovremmo riniziare anche a chiamare le cose con il loro nome. Tu nel testo, nel capitolo sesto, dici una cosa sulla quale vorrei invitarti magari a un piccolo approfondimento perché tu scrivi, inizi dicendo una voce, e suppongo intendi tanto una voce politica quanto il discorso che abbiamo fatto di voci che si aggregano alle istituzioni, nel momento in cui abbracci il seggio di un'istituzione quale che sia cessa di essere tale per farsi portavoce del potere. Ma non stai però qui tu descrivendo una corruzione assoluta del potere? Allora, quello è un capitolo che si prende diciamo come scopo quello di capire un po' che cos'è un'istituzione, no? E quindi come possa una voce essere una voce in un legame con l'istituzione, nel momento in cui si vada a legare all'istituzione. E la conclusione è che non è possibile, non è possibile per, ma attenzione, non è possibile non per colpa di qualcuno, non è possibile perché il rafforzativo istituzione da istemi vuol dire una cosa ontologicamente ben precisa, cioè un'istituzione come ben sapeva per esempio Rousseau, e anche Illich, un'istituzione in quanto tale non può che non andare d'accordo con un'istituzione una voce che si presuma libera. E spiego anche perché. Perché un'istituzione non ha bisogno di fare qualcosa per agire. L'essere dell'istituzione, il suo istemi, il suo stare, fonda il suo essere, fonda il suo agire. Nel momento in cui un'istituzione è, andiamo a fare degli esempi concreti, l'istituzione universitaria, per collegarci al discorso di prima. Nel momento in cui l'istituzione universitaria è, già agisce. Chiaro? Un conto è l'azione dell'istituzione, un conto è il movimento dell'istituzione. È chiaro che ci sono movimenti diversi. Allora l'università italiana si muove in un certo modo, l'università francese per dire si muove in un altro modo, così come l'istituzione sanità. In Francia si muove in un modo, negli Stati Uniti in un altro, eccetera. Ma l'azione di un'istituzione, l'azione ontologica, è quella comunque di reinglobare, come anche Foucault adesso mi viene in mente, sapeva molto bene, è quella di reinglobare la società in cui viene a fondarsi per comunque ritradurla nel suo linguaggio. Allora, come può andare d'accordo questo con il discorso che facevamo prima, cioè per cui il filosofo o comunque il pensatore è per definizione colui che si espone e che si denuda nella polis? Non può andare d'accordo. Cioè l'istituzione ontologicamente differisce e non può che differire, perché qui, ripeto, in questo caso forse l'unico, non si sta accusando, diciamo, chiamando in causa nessuno, cioè ma proprio l'istituzione in quanto tale, e non può andare d'accordo. Non possono convivere le due cose. Prendiamo Hegel. Hegel è forse considerato dalle scuole, quando si insegna storia della filosofia, Hegel è l'accademico più accademico che ci fosse, no? Questo è quello che ci viene detto. Le famose controversie tra Hegel e Schopenhauer, chi riempiva più le aule, eccetera. Allora Hegel sembra un po' il tronfio, no? Del suo tronfio, del suo accademismo che più tronfio non si può. Niente vero. Niente vero perché se si vanno a prendere lineamenti di filosofia del diritto di Hegel, nonché altri testi di Hegel, ci si rende conto di come Hegel stesso, il megatronfio dell'università, in realtà detestava le sue istituzioni. Ma questo è ovvio, è naturale, fisiologico, no? Il discorso... Penso che succede con la sinistra hegeliana. Ecco, appunto, a maggior ragione. Che non vengono abilitati all'insegnamento perché si rifanno ad Hegel, così come certe idee di Hegel nello stato cristiano sono vietate. Rendiamoci conto, no? Vedi, tutti... Concludo con un accenno perché, appunto, invito i nostri ascoltatori a leggere, diciamo, il testo se hanno un po' di tempo libero perché non possiamo avere modo, no? Di andare a fondo. Il discorso del potere, no? Allora, il potere va di pari passo con questo discorso, cioè l'istituzione è per forza di cose non tanto figlia quanto alleata del potere. Perché non è che c'è prima un potere, rimando ancora a Foucault, non è che c'è prima un potere e poi c'è un'istituzione. Non funziona così. C'è un potere in quanto c'è un'istituzione e c'è un'istituzione in quanto c'è un potere. Possiamo anche chiamare il potere, in questo caso, ideologia. Io la chiamo ideologia anche nel testo, perché anche qui mi rifaccio a, diciamo, una reinterpretazione di Marx. Il sistema ideologico non può non avere uno spettro di istituzioni. Sicché non si dà nella storia, e anche questo è naturale, cioè, io dico anche nel testo, non si tratta di abolire il potere o di abolire una ideologia, perché questo sarebbe un nonsense, sarebbe una stupidaggine, che non è possibile fare questo. Come si dà un'epoca storica senza la sua propria ideologia? Walter Benjamin, no? Non è possibile. Allora, quello che si deve cercare di fare è di individuare quali sono le maglie dell'ideologia attraverso cui si esplicano le maglie del potere. Tutto qui. Questo è lo sforzo che il filosofo è chiamato a fare e chiamato ad esporre. Mi fermo qui. Però tu qui non credi di stabilire una correlazione diretta tra questo, come hai detto tu, questo essere dell'istituzione come un dover essere? Mentre non è, è questa davvero una necessità che le istituzioni debbano avere questo dover essere in chiave autoritaria. E qui potremmo pensare, ad esempio, forse la più grande, più importante, la prima grande istituzione, visto che siamo rimasti sull'ambito accademico, che è proprio l'Accademia di Platone, che la cui unica restrizione per l'ingresso era essere competenti di geometria, ossia tradotto in altri termini, sappiamo che poi questa frase non c'è mai stata, è stata attribuita, però è sintomatica del discorso, è essere competenti nel ragionamento. Cioè il fatto che forse noi vediamo, almeno chiedo, non trovi che vediamo questo dover essere autoritario dell'istituzione come un prodotto di quello che è avvenuto, forse nella modernità o forse negli ultimi due secoli, in cui è sorto lo Stato, perché noi dimentichiamo che lo Stato è un'immunzione moderna. Allora sì, se tu dici in chiave di uno Stato che... Però i nostri padri costituenti, ad esempio, che hanno vissuto la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, in molti casi anche la tragedia della prima, in alcuni casi, e hanno provato a farci uscire da questi modelli. Il problema è che poi li hanno gettati fuori dalla porta e sono rientrati dalla finestra. Però non lo so. No, no, ho capito il punto e in parte sono d'accordo. Allora, è chiaro che qui va fatta una contestualizzazione, ma perché? Perché l'ideologia, la maglia ideologica, le maglie ideologiche dell'Accademia di Platone, di quella epoca storica, non sono chiaramente le stesse di quelle a partire dalla... Io individuo, per esempio, l'aberrazione della nascita dello Stato di diritto con la rivoluzione borghese-francese, perché poi non si dice mai nelle scuole che quella francese è stata una rivoluzione puramente borghese, finalizzata a quel tipo di potere lì. Ecco, è chiaro che da quel momento in poi ci sono delle maglie ideologiche diverse, sicché se l'istituzione poteva, diciamo, nella democrazia teniese avere determinate connotazioni che, come io dico nel testo, non devono per forza essere negative. Cioè, possono... Quello è un esempio che tu fai, giustamente virtuoso, possiamo anche cercarne altri, per esempio l'universitas medievale, l'universitas dell'età scolastica, ma vogliamo mettere? Cioè, l'universitas di cui Tommaso, Anselmo e tantissimi pensatori medievali sono stati figli, ma niente a che fare con l'università moderna. Ma già, anche l'università, ad esempio, di Padova al periodo di Galilei, nel Gran Ducato di Venezia. Certo, perché lì siamo, Sergio, lì siamo poco prima della tragedia, poco prima dell'emergere dello stato cosiddetto diritto. Quindi lì ancora siamo, è vero, in una zona più sicura, più autentica. Infatti Galilei finisce male quando torna. Certo. Quando se lui se ne stava là, sarebbe stato a posto. Certamente, certamente. Però lì abbiamo anche, in realtà, l'istituzione ecclesiastica, no? Quindi, forse se vogliamo, quello che poi sarebbe diventata l'istituzione accademica, lì era rappresentato, forse, dall'istituzione ecclesiastica, non lo so. È un discorso piuttosto complesso. Comunque, sì, sono d'accordo con te nel momento in cui dici consideriamo l'epoca storica, consideriamo il reticolo ideologico sancito dall'epoca storica. La democrazia atenese è una cosa, l'età scolastica è un'altra, l'età di Galileo è un'altra ancora, quella di oggi, a partire dal grande spartiacque della finzione illusoria dello stato di diritto con la rivoluzione francese, è quella americana prima ancora, quelle sono un po' le due facce della medaglia, e sono diverse. Da lì in poi è caduto, diciamo, è caduto proprio il pensiero, è capitombolato, e l'istituzione è divenuta questo. Infatti Foucault, nella sua, diciamo, analisi della storia della sessualità, ma anche della storia della psichiatria, denuncia proprio questo. Denuncia proprio una precipitazione a partire dall'età moderna, per esempio nell'utilizzo e nella concezione della sanità come istituzione. Certo, se tu pensi che gli antichi greci vedevano il medico come seconda funzione, mentre il primo era l'insegnante di ginnastica. Assolutamente. Però non trovi che in sostanza Foucault stia in realtà contestando lo stato post-obesiano, cioè la società post-obesiana, che è qualcosa che si è imposta. E Foucault questo non lo evidenzia come dovrebbe, perché anche lui riporta questo come una condizione storica necessaria. Questo forse è un grande problema di queste teorie filosofico-sociologiche che vogliono inglobare l'universo-mondo tutte sotto una sorta di globalismo antelittera, ma non un globalismo ideologico, senza ricordare che l'esperienza umana è estremamente diversificata. Non si possono mettere tutti i sistemi sotto uno stesso ombrello. E Hobbes è in realtà il grande tema qui, quello che discutiamo quando discutiamo di istituzioni come il liberalismo, di società come in realtà antisocietà, perché il bellum omnia contra omnes è in sostanza una disgregazione della società, è il contrario della socialità. Però a noi viene venduto come socialità. Il ritirarsi, ad esempio, l'italiano ha questa caratteristica molto particolare, che è quella del ritirarsi nel familismo, che poi determina appunto il nepotismo, tutte quelle cose di cui sappiamo. Ma questo è anche il sottoprodotto. Perché io mi ritiro nella rocca della famiglia? Perché il mondo esterno è mio nemico. Allora io cerco quegli alleati stretti che alle origini della storia hanno determinato il sorgere delle polis, delle poleis, delle città, delle prime strutture sociali organizzate. Perché non è che gli esseri umani si sono organizzati così. Si sono organizzati a motivi di cooperazione e difesa. Questo è evidente. Solo che adesso noi abbiamo portato l'anticooperazione, la disgregazione nel cuore della società. Abbiamo visto la società come quello che la società non è. Ed è qui che Foucault si inserisce, ma si inserisce su un discorso avvelenato dall'obesianesimo. Non trovi? Certo. Allora, sì, 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 assolutamente. Due cose volevo dire in risposta. La prima è che c'è un passaggio piuttosto arzigogolato, perché poi sappiamo che Foucault non amava scrivere in maniera sistematica il suo pensiero, ma lo affidava all'oralità e quindi ci sono queste trascrizioni. Delle Collège de France, sì. Del Collège de France. E c'è questo passaggio che lui fa in un corso che chi ha chiamato, aveva chiamato salvare la società. Socialism must be defended. La società non è più difesa. Esatto, esatto. Bisogna salvare la società. C'è questo passaggio dove lui evidenzia quello che tu dicevi un po'. Cioè, diciamo, rimprovera a Hobbes questa lacuna, questo essersi troppo concentrato sul diritto di tutti contro tutti, quindi sul difendersi dalla guerra civile, perché poi quello era il grande problema storico di Hobbes, difendersi da una guerra civile piuttosto che proporre positivamente qualche cosa. Vero è che a mio avviso se io faccio un attimo un po' lo storico della filosofia, non sono tanto d'accordo. Io un po' dissento su questo, nel senso che per me la colpa mi si lasci passare questa cosa, cioè la responsabilità storico-filosofica di quella che poi sarebbe diventata la tragedia dello stato di diritto moderno è da far risalire a Locke più che a Hobbes. Io la vedo un po' così, perché poi se noi pensiamo che i cosiddetti rivoluzionari americani avevano Locke, andavano con le navi quando partivano si portavano Locke sotto braccio, insomma c'è un po' una controversia forse su questo. Credo che Hobbes avesse veramente terrore di qualcosa come la guerra civile. E quindi non so se hai presente l'iconica prima copertina del Leviatano, no? Dove c'è questa persona che appare con scettro da potere spirituale e temporale, quindi scettro e spada, ed è composta da tutti questi omini, no? Che formano il suo corpo e che sarebbero i cittadini. Quella in fondo è un'idea, come dire, è una traslazione di un'idea teocratica, se vogliamo, no? Io non credo che in fondo l'insegnamento di Hobbes sia stato tanto condizionante nella storia degli eventi, diciamo, della politica quanto Locke. Questa è un po' la mia posizione. Poi volevo dire un'altra cosa, ma mi sono perso nel discorso e forse la riprenderò dopo. Però ecco, insomma, secondo me Locke va ad individuare proprio un po' uno spartiacque nella storia della filosofia politica e nella politica in sé. Sì, però sai, c'è il fatto che come tu hai giustamente evidenziato Locke, sostanzialmente la dichiarazione di indipendenza americana e la Costituzione hanno tantissimi elementi che dipendono da Locke, non ultimo questo è il conseguimento della felicità che Jefferson mise che è proprio un termine di Locke. E se però vogliamo fare un discorso storico che non arrivi fino ai giorni nostri quantomeno l'esperienza politica della rivoluzione americana, sì è vero che oggi avvengono queste riscrizioni della storia viene riscritta di nuovo, però io dico sempre una cosa, se noi vogliamo vedere le due diverse direzioni, poi si può dire che la rivoluzione americana finisce con la guerra civile americana in cui le eligarchie assumono un potere totale sulla politica come vediamo ancora oggi, ma anche quello non finalizzato non davvero stabilitosi fino a Wilson, fino a Woodrow Wilson, l'istituzione della Federal Reserve, la prima guerra mondiale, eccetera, ma se vogliamo la, la, io dico sempre che i due percorsi platonico anti-platonico si vedono tra le due rivoluzioni, la rivoluzione americana, George Washington avrebbe senza alcun problema poter, avrebbe potuto nominarsi tranquillamente Giorgio I, Giorgio, non lo so, primo d'America, non avrebbe avuto nessuna difficoltà. Se tu pensi nel Capitol degli Stati Uniti c'è ancora oggi una statua di George Washington come se fosse Zeus, una roba mitica, mitizzato. Invece George Washington anche per via di quei suoi riferimenti culturali che aveva, ossia il riferimento tanto alla Grecia Antica quanto alla Romanità, lascia il potere dopo aver vinto, perché praticamente gli Stati Uniti sono stati creati da George Washington, dalle sue battaglie, da tutto quello che c'è in questa storia. Mentre la rivoluzione francese è perfettamente platonica, non platonica in senso positivo ma come la descrive Platone, la Repubblica in cui tu hai questo momento, tutto quello che vuoi, la confusione, il terrore, Giacobini, eccetera, eccetera, e poi il tiranno, poi l'arrivo del tiranno. Hai un percorso che finisce male mentre nella rivoluzione americana non finisce male e gli ideali della Costituzione americana io di recente sono molto in polemica in relazione a questi nuovi pseudo, stiamo sempre lì perché la modernità e la contemporaneità e anche confusione e di recente dal municipio di New York hanno rimosso la statua di Thomas Jefferson perché era un razzista ma come uno che ti fa una dichiarazione che ti dice all men are created equal tutti gli esseri umani sono creati uguali tu me lo sovverti al punto di dire il contrario di quello che questo dice e questo secondo non trovi che sia anche l'elemento centrale che tu evidenzi molte parti del tuo testo che è il nucleo della pandemenza questo sovvertimento del mondo in cui il significato diventa l'antisignificato la cosa diventa l'anticosa persino la felicità io adesso volevo presentare spero che avrò il tempo in questi giorni proprio un testo su questa su questa vicenda di un di un pensatore tedesco che è molto molto non so se Byung ma come no lo conosco ma io mi piace molto e infatti proprio lui lui parla anche non soltanto del sovvertimento delle parole ma anche del sovvertimento del senso del dolore che è anche una una conseguenza del sovvertimento del concetto di felicità chiaramente non possiamo risolvere questi questi problemi qui però c'è un nucleo fondamentale in cui che è poi il nucleo in cui ritorniamo a Platone nel fatto che non ci capiamo più perché le parole significano cose diverse per persone diverse quando io dico tu lo scrivi molto bene con il discorso del utilizzare queste etichette per per eliminare il discorso ma queste etichette che non hanno un contenuto di pensiero assolutamente allora come siamo arrivati fin qui allora caro Sergio abbiamo messo nel calderone tantissimi tantissimi temi allora intanto per quanto riguarda il discorso sul diciamo l'effluvio del linguaggio che ormai è diventato mero profluvio questo è un po' un paradosso no? cioè noi abbiamo ma un paradosso tragico perché poi noi abbiamo la possibilità oggi di far fluire il linguaggio in una maniera di in una scusami in una gamma di maniere impensabili fino a un po' di tempo fa eppure più questo è possibile più il linguaggio diventa prigioniero in qualche modo di se stesso eh ma questo non è un caso no? perché il linguaggio parla il linguaggio è depositario della situazione di un'epoca questo Heidegger lo sapeva benissimo no? io uno dei più grandi meriti che ne dicano anche qui i detrattori che io riconosco a Heidegger è quello di aver rilanciato la questione del linguaggio nel novecento no? insieme ad altri eh insieme a Wittgenstein insieme ad altri grandi pensatori però lui l'ha collegata direttamente ad una filosofia della storia no? allora il linguaggio oggi che da un lato sembra estremamente ricco dall'altro però quanto più è ricco tanto più è depauberato ci deve far riflettere perché è sintomatico della situazione che abbiamo cercato di delineare in questa ora di diretta no? diciamo si connette proprio a un epifenomeno attraverso cui la storia parla no? eh questo non vuol dire che siamo in un'epoca di nullificazione di mera nullificazione eh annichilazione eccetera perché questo sarebbe stupido è come chi interpreta Nietzsche il nichilismo di Nietzsche dicendo ah il nichilismo è la fine della storia ma che vuol dire ma non è così no? se fosse così facile sarebbe non è che la storia finisce neanche Hegel ha mai detto ha mai avuto l'ardore di dire la storia è finita perché quando un pensatore dice la storia è finita intende dire che la storia magari è un punto di svolta no? perché ci sono delle condizioni che non si erano mai verificate prima per esempio questo modo di essere del linguaggio da eh che poi tra l'altro la questione della pandemia ha rilanciato ancora perché adesso io e te stiamo parlando qui ma forse chissà nel 2019 ci saremmo incontrati no? non avremmo avuto bisogno di StreamYard magari con tutto il rispetto per StreamYard per fare diciamo ci saremmo incontrati avremmo fatto la diretta insieme insomma ci sono molti molte rimodulazioni del linguaggio no? e a mio avviso se c'è una cosa che non si può mai bandire il meccanismo del bando è un meccanismo assai atroce e assai peculiare della nostra epoca se c'è qualcosa che non si può mettere al bando è il linguaggio il linguaggio non si potrà mai sopprimere e sino a che ci sarà il linguaggio ci sarà filosofia no? per tornare a Platone quindi che fare? beh riconoscere riconoscere questo non si tratta di sovvertire o meglio non di fare torno a dire fare rubore manifestazioni si tratta di riconoscere questo fare un'opera di lenta e inesorabile consapevolezza tutto qui sì che in questo modo noi possiamo essere direbbe Heidegger parlati dal linguaggio consapevolmente perché noi a partire dalla riflessione diciamo anglosassone siamo sì tendiamo a considerare il linguaggio come qualcosa di cui noi disponiamo no? niente vero cioè il linguaggio che in primo luogo io la penso così diciamo dispone di noi no? in questo sono e lo dico con orgoglio heideggeriano se qualcuno mi vuole etichettare non c'è problema facessero pure perché trovo una trovo di un'arroganza pazzesca il definirsi diciamo padroni del linguaggio no? perché poi un conto è la lingua un conto è il linguaggio sono due cose diverse grammatica generativa queste rielaborazioni dell'innafismo cartesiano no? che non sono poi neanche a livello di cartesio perché cartesio era qui la grammatica generativa sta qui al mio avviso no? cioè insomma quindi il linguaggio ci parla no? attraverso di noi parla e allora riconosciamo qual è la situazione qua poi un'altra cosa volevo dire su questo tu dicevi degli Stati Uniti d'America allora io penso che se la rivoluzione francese abbia nel diciamo nella rimodulazione delle istituzioni abbia sancito la borghesizzazione diciamo della della civiltà in questo senso cioè la diffusione la diffusione capillare della borghesizzazione quindi abbia dato vita ai processi che poi abbiamo sotto gli occhi oggi credo che in questo la rivoluzione americana sia stata alleata della rivoluzione francese nel senso della borghesizzazione economica perché se spesso non si dice che la rivoluzione francese è una rivoluzione borghesizzante la rivoluzione americana è una rivoluzione capitalistizzante dal punto di vista economico cioè dal punto di vista economico la rivoluzione americana che è una rivoluzione economica in primo luogo va a porre la strada per quello che poi sarebbe diventato quello che Marx chiama il sistema capitalistico che già era in essere a partire dalle recensioni inglesi e che poi traslato lì ha dato vita ad una serie di processi economici che hanno fondato il nostro il nostro presente clamoroso è il caso che non si cita spesso ma è il caso della Louisiana no? Cioè dove praticamente gli stati federati per avere la Louisiana se la sono comprata sono andati mi pare dalla Span dai francesi dai francesi grazie non mi ricordavo sono andati dai francesi a dire sentite questa data ce la compri ah ecco questo questo neanche lo sapevo vedi questo meccanismo di comprare no? della compravendita da Narosa questo deriva da lì si è sancito e consolidato lì scusami solo una cosa se no mi dimentico su Han Han è un pensatore che io stimo molto e che ha dalla sua qualcosa di molto interessante cioè Han è un profondo per origini anche per storia personale è un profondo conoscitore del cosiddetto oriente non mi ricordo se lui è sudcoreano non mi ricordo credo coreano ecco questo è importantissimo perché per esempio e mi collego al nostro discorso bisogna oggi conoscere molto bene quali sono le coordinate geopolitiche perché noi oggi ci troviamo nella situazione che vent'anni fa non si sarebbe mai potuta immaginare di un capitalismo comunista da Cina allora voglio dire che chiamano capitalismo così come noi ci chiamano capitalismo ecco però di fatto lo si inserisce in un meccanismo capitalistico no perché voglio dire è un capitalismo che si mette la cappa del comunismo ecco qua ecco qua appunto quindi voglio dire è che se chiamo la penna mela diventa mela i cinesi sono un sistema capitalista esatto verticista statalista è un ibrido una cosa assolutamente quindi io mi metto diciamo riprendo le fila anche un po' del mio testo perché c'è un capitolo che io ho chiamato capitalismo ipertrofico dove appunto la diciamo la resa dei conti tra il capitalismo storico per come lo abbiamo conosciuto cioè fondamentalmente quello attrazione borghese americana statunitense chiedo scusa e quello emergente ma ormai già non più emergente come dire sopravanzante del diciamo del versante Cina Corea Giappone e anche Russia che ha un po' però una condizione sui generis peraltro molto attuale è un po' qual è la situazione in questo no? quali sono le sorti del capitalismo per come lo abbiamo conosciuto e qui però chiudo perché sennò avremmo un altro discorso che ha fatto nel testo un discorso sulla globalizzazione sulla sul fatto del sulla romanizzazione del che poi la globalizzazione è semplicemente una romanizzazione in cui la Pax Romana che la gente non capisce che la Pax Romana pur paradossale era una pace perché i romani dicevano quando tutto il mondo sarà romano non ci sarà più guerra avevano dimenticato però la loro stessa storia che è una storia continua di rivoluzione avevano dimenticato Cesare avevano dimenticato va bene però apriamo appunto una parentesi però sai quando tu dici il linguaggio non si potrà sopprimere capisco il tuo discorso perché in Italia questo discorso arriva attraverso la Germania attraverso questo orientamento che una parte del pensiero italiano ha per il pensiero tedesco nel pensiero tedesco per ragioni ovvie secondo me che hanno a che fare proprio con la difficoltà del linguaggio tedesco che è un linguaggio che domina la persona c'è una ossessione sul tema del linguaggio di Sprache tutti scrivono di Sprache da da Humboldt fino a Krauss fino a Wittgenstein fino a Heidegger è una riflessione continua a Georg il tedesco è ossessionato ancora oggi dal tema del linguaggio di Sprache è una cosa che proprio noi italiani siamo più perché il nostro linguaggio è più bello è più elegante è più leggero è più è più veloce quando parli in italiano parli veloce sai una delle differenze qui vado un po' sul triviale però è interessante da notare se tu vedi un gruppo di tedeschi seduti un gruppo di italiani diciamo che tu puoi non puoi capire la lingua ma vedi il loro comportamento come ti accorgi che gli uni sono tedeschi e gli altri sono italiani dal fatto che i tedeschi c'è uno che parla e gli altri ascoltano gli italiani invece parlano tutti gli uni sugli altri ma perché perché uno pensa è una questione culturale no è una questione di linguaggio perché il verbo in tedesco in genere è alla fine perciò se tu non arrivi al verbo io non so di cosa stai parlando è un esempio molto triviale il mio però se uno ad esempio parla tedesco si accorge che proprio il tedesco è una lingua che ti domina anche per tutta la vabbè adesso non lanciamoci troppo però ecco tornando all'autofase il linguaggio tu dici non si potrà sopprimere che però è un po' antitetica a quello che è il tema della crisi del linguaggio tu ad esempio nel testo scrivi cinto per questo occorre vabbè il coronavirus non è altro che l'accelerazione del virus dello shock credo che tu faccia qui riferimento alla shock doctrine che è indotto dalle nuove coordinate del capitalismo annunciate dal sollevante per questo occorre la massima attenzione nel tracciamento del fenomeno per questo lanciarsi portarsi troppo velocemente verso una ecco nuova solidarietà che tu metti tra virgolette una nuova responsabilità senza prima tentare arduamente di introiettare questo stesso shock quindi domandarsi quali ne siano le dinamiche i movimenti i movimenti quale ne sia l'essenza dal punto di vista storico politico etico sociale capitalistico rischia di essere incauto fuorviante deviante e qui proprio tu cogli questo punto quando tu dici il linguaggio non si potrà sopprimere ma quando io vengo da te e ti dico solidarietà però per solidarietà come tu ben dici è una nuova solidarietà per solidarietà io non intendo orveglianamente solidarietà non sto in questo momento sopprimendo proprio quel linguaggio che invece di comunicare serve ormai per trasmettere una manipolazione una un modo per influenzare i tuoi i tuoi comportamenti insomma nel momento in cui il linguaggio diventa mera tecnè mera tecnica mera sofistica vorremmo dire è ancora linguaggio assolutamente sì nella forma del suo darsi come sofistica questo è il punto capito cioè secondo me per quanto diventi sofistica per quanto diventi poi peraltro con tutto il rispetto per i sofistiche insomma noi qua usiamo l'accezione degenerativa no per quanto diventi sofistica per quanto diventi mera tecnica per quanto diventi comunque il linguaggio si dà in quella forma e allora comunque deve essere possibile deve essere possibile interrogarsi sul perché il linguaggio si dia in quella forma non so se mi sto spiegando cioè tu stai dicendo che il linguaggio che non si dia in relazione ad una verità è ancora linguaggio assolutamente perché comunque il linguaggio non può darsi no scusami non può non darsi in relazione ad una letteria anche se noi non la e no vabbè non ti si sente più non non si sente più nulla che è successo vabbè eccomi ecco ci sei di nuovo dicevo anche se io vengo ecco anche se io vengo da te ti dico solidarietà politica eccetera e tu mi dici vabbè ma non vuol dire più niente non di meno noi possiamo interrogarci sul perché non voglio dire più niente e quello è comunque linguaggio capito cosa intendo sì però viene a mancare il contenuto che è il senso del linguaggio facciamolo in altro esempio io vengo da te ti dico mi puoi dire dov'è il Campidoglio e tu mi dici vai il Vaticano e dietro il Vaticano sì tu mi hai dato un'indicazione ma questa indicazione è priva di contenuto è priva di significato dunque è semplicemente una forma è una scatola vuota senza nulla dentro io non la chiamo più indicazione non dico che tu non mi hai né aiutato né dato un'indicazione mi hai mai andato fuori strada perciò vedi non c'è più la leteia dentro questo questa interlocuzione è finita è crollata tu la vedi così quindi secondo me invece la leteia ha una componente di celamento di nascondimento questo è Heidegger tanto più tanto più oggi nel senso cosa è che dietro questa vacuità o accanto a questa vacuità perché se poi diciamo dietro ci danno dei complottisti dei cospirazionisti accanto a questa diciamo vacuità cosa c'è no? cioè nel senso noi non possiamo essere senza linguaggio no? questo adesso lasciamo da parte Heidegger ma noi siamo senza linguaggio perché non possiamo più comunicare non è possibile lo siamo già ma scusami io e te stiamo comunicando eh sì ma vedi il particolare non spiega il generale il problema è che ormai se tu non di meno però è possibile ma hai fatto un buon esempio le stesse cose che noi stiamo dicendo adesso qui tu ritieni che possano essere dette in una televisione generalista? oggi no oggi no oggi no l'ingaggio si conserva in delle nicchie così come si conserva la cultura isolate che possono ancora scambiarsi in relazioni concetti frasi con un senso mentre fuori vige il vige la follia la pandemenza vige il telecomando siamo d'accordo è predominante però vorrei usare il tuo stesso esempio per esprimerti un po' la mia divergenza cioè la mia un po' benatura di ecco di cioè io credo nel linguaggio nel senso l'esempio che tu hai fatto sui tedeschi a tavola mica è triviale quello è un esempio serissimo quindi voglio dire come vedi no cioè il linguaggio le vie del linguaggio si esplicano anche nelle cose più quotidiane forse soprattutto nelle cose più quotidiane ti dirò io i più bei dialoghi filosofici io questo lo dico sempre che abbia mai avuto nei miei trent'anni li ho avuti con chi di filosofia non sapeva niente niente lo capisco perfettamente ecco allora noi dobbiamo avere secondo me diciamo ragionare un po' da filosofi su questo cioè il linguaggio come si può quali sono le sue vie tu dici una tavola di tedeschi una tavola di italiani le mettiamo a fare cavolo questa è una cosa molto importante perché richiama l'evocatività del linguaggio richiama il fatto che il tedesco è una lingua simile al greco e quindi è una lingua che intesse il modo di pensare in un certo modo richiama fattori culturali cioè voglio dire è un piccolissimo esempio ma importante tutto nel linguaggio può essere importante anche il fatto che sembri non importante sì però vedi quando tu mi dici a me il concetto mi poni il concetto della leteia per me la leteia non è quel non nascondimento haideggeriano per me la leteia in uno dei significati possibile ma insomma quello che è più comune di pragmatica è quello aristotelico sia dell'adeguatio rei et intellectus se io chiamo penna questa penna deve essere una penna se io chiamo penna la mela è un'altra cosa e nel momento in cui la società generale è stata così confusa orvellianamente ribadisco in cui la solidarietà significa un'altra cosa ma tu pensa la volgarità di utilizzare termini come mi viene anche mi viene anche difficile utilizzarli però come negazionisti un termine che dovrebbe essere rispettato che dovrebbe essere perché e poi gli stessi gli stessi pagliacci che utilizzano questo termine che violano il senso sacrale di un termine che deve essere tenuto con attenzione perché negazionista è chi nega la Shoah chi nega un evento che è sopra la storia che è astorico per questo deve essere sempre presente tu lo strumentalizzi e poi cosa fai allo stesso tempo strumentalizzi quelli che poveretti per loro ragioni perché la cultura della società è quella che indossano la la finta giubba di Auschwitz per protestare e gli puntano il dito contro senza puntarlo contro se stessi che sono i primi ad aver fatto innanzitutto la confusione e in secondo luogo ad non aver portato nessuna formazione su quello che significano questi temi questo significa un fondamentale una radicale frattura dell'ermeneutica cioè noi l'ermeneutica ormai ce la dobbiamo riconquistare e questo è grave questo è un fatto che ci pone sì 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 assolutamente dobbiamo riconquistarcelo e su questo sono pienamente d'accordo sono anche d'accordo sulla frattura sulle crepe diciamo così ma Gadamer Gadamer cosa direbbe secondo te secondo me Gadamer a questo proposito direbbe che la Weltanschauung della parola negazionismo è qualcosa su cui siamo chiamati a riflettere per quanto orribile perché io dire che detesto è un eufemismo l'uso che viene fatto di questo questo termine oggi però Gadamer ci direbbe dobbiamo avere diciamo la fermezza di riconoscere che Gadamer ci direbbe ok ragioniamo sulla Weltanschauung di questo termine perché il circolo ermeneutico non abbiamo l'arroganza di poterlo interrompere cioè io forse sono più non lo so noto magari rispetto a te un anelito più verso così il circolo ermeneutico piuttosto che che comunque comprende il rispetto totalmente la connotazione aristotelico otomistica di adequatio rei ed intellectus io tendo più a considerare quella stessa connotazione come una delle frontiere del linguaggio e quindi forse sono un po' più gadameriano un po' meno tomista in questo senso però penso anch'io che sicuramente diciamo quella connotazione lì del linguaggio sia assolutamente fondamentale e sia veramente veramente in uno stato non critico peggio in uno stato su cui bisogna riflettere seriamente sono assolutamente d'accordo è proprio lì il problema che la nostra società ormai sembra essere diventata incapace di una riflessione e nel momento in cui tu poni una riflessione tu pensa io non so cosa sarebbe oggi di un gadamer non lo so e poi bisogna anche vedere l'arbiografia di gadamer sai anche lui ignorato per gran parte della sua vita proprio all'interno nonostante sia vissuto nel contesto dell'accademia sia stato rettore dell'università di Leipzig però vabbè non apriamo altri discorsi comunque no volevo solo una piccola cosa su questo io sono stato indirettamente allievo anche di gadamer perché sono stato allievo della sua unica allieva donna non faccio nomi tanto lo sappiamo non donatella per favore ecco purtroppo caro Sergio ognuno ha i suoi problemi ma si parlava di nepotismo scusa si parlava di nepotismo ma infatti ma infatti vuoi che ti dico cosa mi abbia detto donatella di Cesare mi ha detto lei non è tagliato per la strada accademica io non le darò nessun manforte io ho detto bene grazie arrivederci io ti posso raccontare un aneddoto su questa signora ma guarda in privato ecco ce lo facciamo in privato proprio un aneddoto a casa Gadamer guarda ti lascio ti lascio immaginare no ma ne ho sentiti guarda ne ho sentiti e ne ho visti non quello che posso raccontarti io quindi veramente lo schifo adesso se posso dire mi assumo la responsabilità di quello che sto dicendo lei è l'esempio perfetto di tutto quello di cui abbiamo ma no ormai gli esempi sono innumerevoli io qualche giorno fa c'era un ragazzo che parlava di punto in Italia diceva una cosa che lui approvava un ragazzo sai come sono alle università quando sono ai primi anni ed era anche molto critico questo e l'altro e aveva scritto mi ha fatto molto dolore vedere questo filmato di questo ragazzo e diceva io all'università di Parma credo Pavia una cosa di questo genere e la mia insegnante di filosofia io sono stato critico questo le ho detto questo quest'altro parlava anche di Illich questo e l'altro e lei prima mi ha risposto una lettera che dovevo essere più calvo in aula e poi quando io gli ho espresso queste cose non mi ha più risposto non mi ha più risposto ma perché no quello che io dico quello che io direi a questa gente andate a insegnare alla Bocconi andate alla Lewis andate a fare altre cose perché questo non è il non le possono fare perché non hanno le competenze per fare gli ingegneri gli economisti eccetera sono diventata professoressa alla Sapienza perché mio padre era professore alla Sapienza però vedi è anche lì subentra appunto quella frattura del linguaggio quella frattura dell'etica che anche poi porta anche alla frattura dell'etica perché chiaramente certo adesso veramente abbiamo fatto lungo però questo è importante secondo me quando le persone vengono e ti dicono ma questa è la tua verità la mia verità e questo è l'altro questa è anche una frattura del linguaggio anche dell'etica è una frattura del discorso della civiltà tu ti ricordi Tommaso faceva durante le lezioni metteva una mela diceva questa è una mela poi lui che era ciociaro io non posso fare l'accento però diceva e chi pensa il contrario se ne ha da insomma una cosa di questo se ne deve andare perché finché noi non ci unifichiamo sul fatto di essere insomma sul buono cosa faceva Socrate faceva questo e quella è l'origine della filosofia queste persone dovrebbero stare molto lontane però ormai purtroppo hanno occupato la rocca come diceva Polibio guarda io caro Sergio adesso insomma io mi vergogno molto di no mi vergogno però diciamo che l'essere stato a stretto contatto con questa realtà ed inclusa la signora Donatella di Cesare mi ha dato non la menzioniamo più no no per carità mi ha dato la possibilità devo dire di scoprire in maniera abbastanza netta quanto fa schifo perdonami tutto ciò quanto come dici tu adesso alzo un po' il registro quanto questo sia una frattura gravissima in termini civili in termini etici in termini filosofici e in termini politici certo quindi su poi l'aneddoto che mi dicevi del ragazzo guarda non mi dilungo sì ma non mi dilungo perché figurati ti vorrei raccontare con piacere magari altre volte possiamo fare una rubrica esperienze della della disgregazione etica nell'università sì va bene allora abbiamo parlato molto e spero che abbiamo abusato della pazienza degli ascoltatori ma spero sia stato il discorso sia stato interessante anche per loro e consiglio di andare a consultare il testo di Matteo sulla filosofia della pandemia perché è davvero una lettura che soprattutto in questo momento rincuora vedere persone che abbiano ancora una lucidità che mantengono una lucidità e io devo dire anche un coraggio perché capisco che nella in un paese come l'Italia con tutto quello che sta succedendo ci vuole anche molto coraggio per pubblicare lavori che i soliti possi soliti i soliti dietro le quinte possono facilmente potrebbero facilmente strumentalizzare dunque e grazie davvero e anche grazie per aver per per questo discorso grazie a te grazie a tutti e in conclusione fammi solamente dire che di rimando è rincuora sapere che sia possibile condividere il proprio non il proprio insomma condividere una forma di pensiero e un esercizio del pensiero come abbiamo fatto in quest'ora che sia possibile e a volte ci vuole una bella dose di coraggio per essere pensatori questo sì è vero grazie e alla prossima ciao arrivederci ciao a tutti grazie a tutti